Siamo giunti alla settima corsa, è il premio LAC, un miglio per anziani di categoria E ed F, sono 7 i concorrenti al via. Con il numero 1 c'è Nel Sole con Gaetano Di Nardo con il 2 Maren Fans, Giampaolo Minnucci con il 3 Odessa Desi, Francesco Pettinari con il 4 Patatrackfets, Giuseppe Cerrone con il 5 Neil Griff, Roberto Andreghetti con il 6 Pucci Italia, Alessandro Marucci con il 7 New York Times, Vincenzo D'Alessandro Junior. Allineamento che si va perfezionando quando mancano 200 metri allo stacco della macchina, Di Galoppo rabbiosamente in allineamento New York Times, che rimane fuori corsa. Rinuncia al lancio O'Neill Griff, allo stacco Maren Fans, rientra a Patatrackfets ma soprattutto a Pucci Italia che è lanciato a largo. Ora però Pucci Italia passa su Maren Fans, poi Patatrackfets, Odessa Desi, Nel Sole e Neil Griff con Maren Fans che per un attimo accenna a muovere dalla scia di Pucci Italia. Ma poi rimane in seconda posizione, il primo quarto è in 29 scarso per Pucci Italia e il mezzo giro iniziale è in 36 e 2. Si viaggia sul piede dell'1-12-5 con Pucci Italia deciso in avanti, 600 iniziali in 43 e 7. Maren Fans che rimane nella sua scia a precedere sempre Patatrackfets, Odessa Desi, Nel Sole e Neil Griff che sposta a largo. Nel New York Times che ha ripreso contatto recuperando molto terreno. Sempre Pucci Italia in vantaggio su Maren Fans e Patatrackfets, l'errore per Odessa Desi, il chilometro in 1.14 secco per Pucci Italia davanti a Maren Fans, Patatrackfets e poi O'Neill Griff sbaglia anche nel Sole. I primi quattro che restano in fila indiana dopo 1.200 metri in 1.28.6 ma ora Maren Fans sposta dalla scia di Pucci Italia in anticipo su Patatrackfets e O'Neill Griff. Lungo la corda Pucci Italia al suo esterno lo scatto di Maren Fans che è in grado di prevalere chiaramente sull'avversario. Si lanciano all'inseguimento O'Neill Griff e poi Patatrackfets ma Maren Fans ha accelerato e sta staccando da O'Neill Griff al cui interno è vitale Patatrackfets. Maren Fans in chiara evidenza sul palo, Maren Fans che vince come vuole su O'Neill Griff che ha ragione di un ottimo Patatrackfets per il posto d'onore. e quindi 2.54 l'arrivo ufficioso della settima di Capannelle 1.59 sul mio cronometro 1.14.4 la media naturalmente ufficiosa. Per il favorito Maren Fans il training di Dario Battistini, l'interpretazione di Giampaolo Minucci. Per il favorito Maren Fans